dove lì avete anche una corsia preferenziale e per pagare poi alla casa avete proprio la corsia vostra quindi andate là, prendete il cd e iniziate a fare la fila insieme a tutti gli altri amici all'esercito così io lo voglio chiamare di Marco Mengoni, l'esercito blu perché poi abbiamo tirato su i cd prima era un cd, un palco pieno di blu, era tutto colorato, era un pubblico colorato quello di oggi in pomeriggio con i cd color blu, era un oceano dimmi tu che vedi dentro di me che c'è un formicaiù nella testa che ti ha preoccupato sono un pazzo col cuore rovesciato, non la verità, non fatto un mutato io mi chiedo se tu non sia me 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 eh guarda te che cosa meravigliosa, dai che Marco salutala sono un pazzo col cuore di vita ma la verità non fatto un mutato e mi chiedo se tu non sia me e ci siamo, eccolo di nuovo qua sul palco del centro commerciale con le strada Marco siamo pronti ciao ciao